Roberto Tartaglia, lei è il responsabile locale del sindacato Unione Inquilini di Civitavecchia. Oggi viene inaugurato uno sportello qui nella sede di Rifondazione Comunista. Di che cosa si tratta? L'Unione Inquilini è un sindacato riconosciuto a livello nazionale. Noi abbiamo avuto la delega, io sono responsabile per quanto riguarda Civitavecchia. Abbiamo delle problematiche a Civitavecchia per quanto riguarda la casa, l'emergenza abitativa, quindi noi ci occupiamo proprio preventemente di quello. Chi sono gli utenti che ne possono usufruire? Per quanto riguarda l'utenza, praticamente tutte quelle che hanno problematiche di casa, che vanno dallo sfratto alla mancanza di casa, abitazione, se l'hanno persa, non l'hanno persa. Le problematiche ce l'hanno dei criteri. La morisità in colpevole è dotata di un modulo. Il modulo deve essere fatto in base a questi criteri. Vi spiego quali sono. Praticamente lo sfratto esecutivo sentenziato dal giudice e la perdita o la riduzione del lavoro. Quelli sono due richiesti fondamentali. Quali sono gli orari e i giorni in cui lo sportello è aperto? Per ora abbiamo aperto lo sportello il martedì pomeriggio dalle 16 alle 19, giovedì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Massimo Pasquini, qual è l'importanza di uno sportello come quello che viene inaugurato oggi in un contesto sociale e territoriale come quello di Civitavecchia? Purtroppo l'importanza lo dà la realtà. La realtà è che abbiamo una situazione di precarietà abitativa enorme che si riverbera anche sugli sfratti, su un caro affitti, sulla incapacità di dare risposte concrete alla gente per avere case popolari oppure affitti a caroni sostenibili. Questo è il senso di avere uno sportello, una sede di unione inquirini che risponde alle esigenze concrete della gente e che spinga l'amministrazione a fare cose concrete e decenti. Questo è uno sportello, una sede di unione inquirini che serve per dare informazione, per organizzare le lotte perché la casa si conquista e non soltanto quindi dare consulenze con informazioni decenti ma organizzare la richiesta politica di politiche abitative che siano capaci di rispondere alle esigenze reali e concrete delle persone.